Ovunque tu vada, vacci con tutto il cuore, recitava Confucio. Oggi vi voglio raccontare di chi fa di cuore e passione una vera e propria condivisione. Tour Manager Riccionese è con noi Luca Domenici. Ciao Francesca, ciao a tutti i nostri telespettatori. Direttore tecnico turistico, guida escursionistica, accompagnatore turistico e docente in materia per la Regione Emilia Romagna. Luca, Domino Experience è la tua creatura, di cosa si tratta? Domino Experience è una realtà che opera nel settore turistico, principalmente nei viaggi e nei viaggi di gruppo. Quindi noi ideiamo, organizziamo, confezioniamo viaggi di gruppo per più o meno persone in qualunque destinazione e poi uno dei punti di forza è proprio quello di accompagnarli, quindi di seguire il viaggio, di dare un ritmo al viaggio, di andare a realizzare questo disegno che è il nostro viaggio. Ascolta Luca, ma come è nato il tuo sogno? Da quale idea hai scaturito tutto? Ma direi per caso. No, in realtà no, in realtà molti anni fa, più di dieci, organizzai un viaggio, la classica gita di due giorni per scopi sociali. Ah! Quella gita andò molto bene, ci divertimmo tanto e soprattutto mi era piaciuto tanto, quelle due giornate le conservo ancora con molta chiarezza e così anche le persone che vennero con me mi chiesero di organizzarne un'altra, una seconda, una terza e poi io con grande entusiasmo lo feci e a un certo punto comunque di questo percorso ho deciso di lavorare un po' su me stesso, di concretizzare un po' quello che era un obiettivo e da lì è iniziata un po' la svolta. Mi piacerebbe parlare un po' di te, ti farei delle domande specifiche ma allo stesso tempo immagino che parlare di sé è un po' difficile, vero Luca? Sì, non è facile parlare di se stesso, è un po' difficile, però mi reputo una persona normalissima come tanti che ha delle caratteristiche personali e potrei dirti che queste caratteristiche ho cercato di riversarle proprio nell'attività dei viaggi, in quello che sto facendo, perché si dice spesso che quando fai qualcosa che ami non ti pesa ed è così ed è vero, caratteristiche sono una persona che cura in maniera maniacale l'organizzazione di ogni cosa, sono una persona empatica così almeno è quello che mi riconoscono le persone a cui piace tanto viaggiare e stare in mezzo alla gente, quindi ho messo insieme queste caratteristiche e ho deciso di farne una professione. Proviamo a vedere cosa pensano le persone di te. Conosco Luca da una vita, è sempre stato una persona solare pieno di tante idee e l'ho seguito ancora con più passione nella sua nuova creatura, Domino Experience, nel quale ha dimostrato ancora una volta tutte le sue più grosse capacità aggregative e la sua grande affidabilità. Ecco Luca ti definisce come persona solare, arrivano tanti complimenti da parte di questa amica, amica forse di lunga data, vero Luca? Sì, è una sorta di sorellina per me, è una persona delettante, comunque una persona con cui ho vissuto tanti anni della vita, mi ha accompagnato in diverse avventure e ci vogliamo molto bene, quindi la ringrazio anche per questo contributo. Ecco, traspare anche molta affettività. Sì, sì, sì. Ma vediamo più avanti che cosa racconta qualcun altro. Domino Experience è una bellissima realtà che ho avuto il piacere di conoscere quest'estate dopo un viaggio che ho fatto a Cortina con Luca, il tour manager, pieno di bellissima gente, è stata un'esperienza bellissima, il Power Weekend a Cortina dove abbiamo fatto delle esperienze adrenaliniche, tra cui un bellissimo giro in mountain bike e quindi lo straconsiglio a tutti perché Luca è una persona preparata, si incontrano bellissime persone e si trascorre veramente un bellissimo weekend o un periodo più lungo di allegria, divertimento e sport in questo caso. Ecco, ecco, Power Weekend. Qui abbiamo visto un ragazzo giovane, no? Sì, Alessandro. Sì, è giovane perché comunque nel tempo ho cercato anche di andare ad intercettare più fasce di persone, di diversità, anche dei target proprio diversi perché è un po' la sfida di oggi, quella di riuscire ad accontentare e diciamo a fare felici un po' tutti. Vediamo se c'è qualche altra fascia di età. Da qualche anno io e la mia famiglia per le nostre vacanze scegliamo Domino Experience. Tutto organizzato nei minimi particolari e Luca, il tour manager, ha il grande pregio di sapere amalgamare alla perfezione le esigenze dei piccoli e di quelli più grandi. Ecco, qui parliamo a questo punto di famiglia, quindi la tua organizzazione include anche nuclei familiari. Sì, assolutamente. Cerchiamo di proporre viaggi, opzioni, opportunità per un po' tutte le categorie, per tutte le fasi, anche per le famiglie. Quindi ci sono viaggi adatti proprio anche ai nuclei familiari. Monia forse si ricorderà in occasione di un viaggio che c'erano 7-8 bambini, tra cui anche i suoi figli e insomma una delle parti più belle era la sera quando io mi mettevo a giocare con loro perché mi divertivo tanto e quindi loro magari si sentivano anche un po' liberi di farsi la vacanza in pace. Forse ha questo bel ricordo che è un bel ricordo anche per me stare con i bambini. Sicuramente un ricordo molto simpatico e ascoltiamo adesso l'ultima testimonianza. E' da anni che viaggio con Domine Experience, un primo luogo per la competenza e simpatia del tour leader Luca Dominici, che riesce a far sì che ogni viaggio diventi unico e memorabile. E' in secondo luogo perché organizzano viaggi per tutte le tasche e per tutte le età, tant'è che molto spesso nei miei viaggi porto con me anche mia mamma che ho 80 anni. e quindi io lo consiglio col cuore a tutti qua. Ecco, un viaggio adatto per tutte le tasche e per tutte le età, quindi veramente offri di tutto. Sì, siamo sensibili anche a questa esigenza perché non tutti possono permettersi determinati viaggi, quindi con il tempo, con l'esperienza, abbiamo cercato di mettere sul mercato più opportunità, proprio anche per chi magari fa il viaggio della vita e quindi ha necessità di, insomma, di prepararselo anche economicamente il viaggio. Ci sono viaggi anche più semplici, più brevi, da un giorno, da due, da cinque. Cerchiamo di accontentare tutti, di dare l'opportunità a tutti di trascorrere dei giorni spensierati, quindi organizzati in massima sicurezza. Bene. Tornando al logo, la costruzione del tuo logo ci racconta veramente di te e ci racconta di tante cose. Ci puoi dire più nel dettaglio? Sì, è il logo a cui sono veramente tanto affezionato e ringrazio anche i ragazzi del team del marketing che mi supportano. Il logo, dunque, è stato veramente studiato, ci abbiamo dedicato tanto tempo, però secondo me era proprio il marchio importante, significativo e te lo provo a descrivere, Francesca. Innanzitutto è un AD che riprende domino, ma soprattutto può essere anche la parte della Terra, del nostro pianeta. Come vedi le colorazioni, c'è il verde quindi del terreno, no? E poi c'è il blu del cielo, dell'infinito. E poi questa scia centrale che è un po' la scia della libertà, con questo aquilone, oppure ci potrebbe ricondurre anche alle ali di un aereo, insomma la voglia di partire, di lanciarsi proprio nel vuoto, nella libertà e nella leggerezza. Veramente molto bello, mi sembra un messaggio profondo, molto molto interessante che sicuramente i tuoi clienti, i tuoi clienti che scelgono Domino Experience apprezzano tantissimo. Chi sono i tuoi clienti, Luca? Ma i clienti poco alla volta, sono arrivati un po' da tutte le parti, sono arrivati e si sono aggregati, però devo dire che la cosa, una delle cose proprio più belle è che tanti di loro sono diventati poi amici. Una delle soddisfazioni più grandi per me è stata creare questa grandissima community di persone che ogni tanto si ritrovano in occasione di un viaggio di Domino Experience o di un evento, perché organizziamo anche eventi. E quindi questa è la grande gioia. Ci sono clienti, ma ci sono anche tanti amici che porto con me nel cuore. Ma infatti, dopo un viaggio con te, Luca, non si può fare altro che affezionarsi a vicenda. Ed è bellissimo come tu continui a seguire i tuoi clienti anche dopo, anche al rientro del viaggio, attraverso una serie di incontri e celebrazioni, ricordi di tutto quello che è stato il viaggio. E quindi il viaggio non è solo il creare, il fare, ma è anche il ricordo di quello che ci rimane. Assolutamente. Hai fatto tanti viaggi. Quali sono state le mete più belle? Mi metti un po' in difficoltà, Francesca, perché mi reputo anche fortunato di avere visto tanto nel nostro mondo. Guarda, sono passato da città metropolitane a angoli sperduti, angoli paradisiaci. Quindi ho vissuto un po' tutte le situazioni, ho visto tanto. Potrei citarne tantissimi. Ecco, ad esempio, vedo questa bella immagine. Eravamo a Damman, in Giordania, in un momento di preghiera. Eravamo qua sul colle, si ascoltava proprio il ritmo di questa città, si ascoltava la preghiera dai megafoni della città. Ho vissuto un momento veramente molto forte a livello emotivo. Questo è uno di quei momenti che ricorderò per sempre. Poi ce ne sono tanti. Qua eravamo nella classica vacanza al mare, dove vengono anche le famiglie con i bimbi. Penso, se non vado a ratero, eravamo in Egitto, in Mar Rosso. È una vacanza dinamica, molto bella, con tante persone giovani, con tanti bambini, dove diciamo nella vacanza è nata un'altra vacanza, che era proprio quella dell'affezione, quella di vivere insieme tanti bei momenti. E qua un altro momento molto forte. Eravamo nel Tempio Buddista, sul Monte Koya, in Giappone, e ci siamo chiusi insieme a loro in una giornata, proprio un momento che abbiamo vissuto con i loro tempi, con i loro riti, le loro preghiere. E questo era il momento poco prima della cena. È stato un momento veramente molto forte, perché è un momento anche sotto l'aspetto spirituale molto significativo. Molto coinvolgente a livello emozionale. Qua eravamo in uno dei deserti più belli al mondo, eravamo nel Vadirum, in Giordania. Abbiamo vissuto una nottata in un tendaggio, in un accampamento tende. Veramente anche qui è stato molto, molto forte vivere la parte del tramonto in questo deserto. Poi ci siamo addentrati anche con le jeep, proprio nel deserto, andando a vivere un po' quello che è la loro civiltà. Anche qua, un bellissimo ricordo. Interessante, bello. Oh! Beh, una delle cattedrali più belle al mondo, San Basilio. Ecco, questo è uno di quei posti che ricordo benissimo. Quando tornai a casa, dissi subito a me stesso che dovevo ritornarsi, perché la piazza rossa San Basilio è veramente un luogo magico. Si incontrano tante etnie, tante persone, ma veramente un conte vederla in foto e un conte esserci. Questo è stato un viaggio molto forte, anche questo in Russia. Abbiamo parlato di viaggi e adesso parliamo di esperienze all'interno dei viaggi. Beh, le esperienze, Francesca, sono tante, veramente innumerevoli. Ne ho vissute tante che veramente a volte mi emoziono. Posso dirti una cosa, che le esperienze tante volte vengono dettate dai luoghi in cui si va a visitare, in cui si vivono queste belle giornate, ma tante volte anche dalle persone che hai addosso, che hai intorno, con cui convivi. Ecco, queste sono le esperienze più belle, perché ricordo che tante persone, quando avevo iniziato a lavorare su questa nuova cosa, progetto, erano magari scettici, pensavano, ma posso andare da solo, posso fare da solo. In realtà è proprio vincente acquisire, lavorare, prendersi un viaggio di gruppo, perché? Perché comunque si va fuori in leggerezza. Si riesce a vivere meglio il viaggio, a godersi tutti i momenti del viaggio, perché comunque hai una persona appunto responsabile, capace, diciamo addetta proprio alla risoluzione di tutti i problemi. E quindi la tua esperienza diventa sicuramente più forte, non devi pensare a nulla, ma solo goderti quel bel momento. Io infatti penso che questo sia un grande valore aggiunto, una grande priorità e forse il più grande punto di forza. Il fatto che quando si viene via con te, si può mettere a riposo tutta quella doversi dar da fare nell'organizzazione, perché pensi a tutto te. Che cosa si porta a casa dopo un viaggio una persona che esce con te, Luca? La prima parola che mi viene in mente è gioia. Dico gioia perché è anche il mio obiettivo. Quando parto so che mi aspettano giornate intense di lavoro, dove c'è un'organizzazione da rispettare, dove c'è da far star bene tante persone, ma quello che cerco veramente di fare, il mio obiettivo, è portare a casa le persone felici. Quindi lavoro molto su questo aspetto. Cerco, spesso riesce, di creare un altro viaggio in quel viaggio, che è proprio il viaggio del sentimento, il viaggio della passione, il viaggio, diciamo così, del cuore. Quindi vedere le persone che ritornano e magari raccontano più che di un luogo, di un momento vissuto, ecco, lì mi dà veramente grande soddisfazione perché spesso, insomma, mi ritengo di aver raggiunto il mio obiettivo. Quali sono, Luca, le prossime mete? Hai qualcosa in serbo per noi? Sì, beh, intanto noi elaboriamo una programmazione annuale che, come dicevamo prima, ci sono viaggi per tutte le tasche, per tutte le persone, per tutte le età e queste le possiamo vedere tranquillamente nel nostro sito internet dove c'è proprio un elenco nella pagina viaggi organizzati. Noi ci siamo anche configurati per i viaggi a domanda. È una nuova modalità che comunque funziona tanto perché questa grande community che si è creata ormai da soli mi chiedono di organizzare per 5, 7, 8, 10 persone un nuovo viaggio. Quindi io quando mi sollecitano comincio a lavorare, a studiarmelo, a scriverlo perché ogni viaggio va scritto e comincio a metterci tutte le cose che secondo me renderanno quel viaggio speciale. Quindi lavoriamo su una programmazione annuale da noi proposta, ma anche sui viaggi su misura a domanda. Bellissimo, fantastico. E se i nostri telespettatori volessero cercarti, come dovrebbero fare? Beh, intanto abbiamo un sito internet www.dominexperience.it che è sempre aggiornato, c'è la programmazione ma ci sono anche articoli sul turismo, ci sono tante nozioni importanti anche per i clienti. E poi chiaramente ci siamo allineati al mondo social, quindi abbiamo la pagina Facebook Domine Experience come Instagram, come LinkedIn e soprattutto anche il canale YouTube. Quindi ho cercato insomma di essere raggiungibile o visibile un po' per tutte le persone. Grazie Luca, concludiamo qui, grazie per essere stato con noi, salutiamo i nostri telespettatori e invitiamo tutti a contattare Luca per poter godere, avere qualche momento di spensieratezza e poter avere un supporto importante proprio nell'organizzazione, nel vivere il viaggio dei vostri sogni. Grazie. Grazie, grazie a tutti i telespettatori. Grazie. Grazie a tutti.